Oggi il Movimento 5 Stelle lancia il sito universitacinquestelle.it sul quale potete trovare la nostra petizione per premere su una nuova legislazione per la tassazione universitaria. Già abbiamo fatto delle proposte che si sono arenate in commissione e noi proponiamo una area no tax di aumentare le risorse per il supporto agli studenti che oggi sono molto scarse. Partengo a una rete di studenti, professori, ricercatori che si ispirano a quelli che sono i valori del Movimento. Oggi qui siamo con il gruppo di Roma a sostenere questa iniziativa del Movimento 5 Stelle che si tradurrà operativamente in una raccolta firme che partirà dalle 10 città in cui attualmente siamo presenti, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Salerno. Questa iniziativa va sostenuta al di là di ogni colore politico poiché andremo incontro a tagli e mancanza di fondi che si riverseranno sulle spalle degli studenti. Parte oggi quindi questa petizione in tutte le università italiane per chiedere al Presidente del Consiglio, al Ministro Giannini, di sbloccare la discussione di questa proposta sulle tassi universitarie, introdurre una no tax area nelle università italiane, rendere il sistema più eco, quindi abbassare le tasse per le fasce medio-basse e prevedere dei sistemi sanzionatori per le università che non rispettano le regole. Mi raccomando, raccogliamo quante più firme possibili.